Buon lunedì 7 dicembre. Siamo chiamati oggi al discernimento, a saper distinguere tra la voce del pastore che apre la porta alle pecore, che lo seguiranno e saranno ovviamente le sue parole di salvezza, parole di amore, di giustizia, di ricerca dell'uguaglianza, di rispetto della diversità. Ma noi dobbiamo distinguere da coloro i quali si intrufolano nel recinto del gregge e non entrano dalla porta principale ma cercano la porta dell'inganno perché il pastore che entra nella porta principale è colui che parla in verità e conduce lungo la via. Chi invece si introduce per vie secondarie e cerca in tutti i modi di parlare un linguaggio della manipolazione porterà il gregge inevitabilmente alla rovina ma il gregge saprà distinguere purché ponga attenzione alla parola che ascolta. Quindi oggi siamo chiamati a seguire il pastore della porta principale e lo possiamo fare soltanto se prestiamo attenzione all'autenticità della parola predisponendoci con dimensione aperta, disponibile e capace di far riverberare in noi stessi la via della salvezza. Buona giornata a tutti.